OIPA Italia ha preso con sconcerto l'abbattimento di KJ1, mamma orsa che abbiamo cercato di salvare ben con due azioni legali rivolte al Tribunale Amministrativo Regionale. Il Presidente del Tribunale aveva sospeso le due ordinanze della provincia autonoma di Trento firmate dal Presidente che condannavano a morte l'orsa, prevedendo eventualmente la possibilità di valutare delle misure alternative, tra cui quello di inibire determinate zone dove c'era la presenza dell'orsa con cuccioli al seguito alla popolazione. Purtroppo questo non è stato fatto, stanotte o comunque da poco tempo è stato pubblicato un decreto di abbattimento, condanna a morte e sentenza a lampo, in quanto purtroppo, come ben sapete, l'orsa è stata abbattuta. Non riusciamo a salvare la vita dell'orsa, sicuramente OIPA Italia continuerà nei limiti del possibile, in tutte le sedi più opportune, a valutare come poter tutelare gli orsi, sicuramente faremo un'istanza di accesso agli atti per verificare esattamente che cosa sia verificato e valuteremo poi di procedere ulteriormente. Ricordiamo che la normativa, la legge cosiddetta Ammazzaorsi, che prevede la possibilità di abbattere sino a otto esemplari all'interno della provincia autonoma di Trento, è stata oggetto di segnalazione da parte di OIPA alla Commissione europea per valutare, o meglio, per segnalare, a nostro parere, una incompatibilità con la corposa normativa europea che tutela l'orso, appunto, a livello internazionale. Continueremo nella nostra lotta, OIPA ribadisce che rispetta sicuramente la vita delle persone e la vita degli altri animali e riteniamo che una convivenza con l'orso sia possibile, ma bisogna chiaramente esserci la volontà da parte di tutti e la collaborazione delle istituzioni, delle associazioni e con l'appoggio, tra l'altro, che è stato manifestato da parte delle associazioni dei veterinari.